Dopo la pausa, giornata di Consiglio regionale all'emiciclo, ma prima in Commissione e bilancio, a tenere banco, c'è la legge di assestamento con il SIE e tre articoli dell'assessore al bilancio Mario Quaglieri, che sono stati oggetto di una riunione di maggioranza ieri a Francavilla, che pare abbia riportato il sereno, ma neanche tanto. Dopo i malumori espressi da una parte di Fratelli d'Italia, il Presidente Marco Marsiglio ha rimesso in righe suoi, ma ha ottenuto anche il SIE di Lega e Forza Italia, ma la Lega insiste sul metodo che non è stato corretto per il Presidente della Commissione, Vincenzo Gincecco. Abbiamo fatto il punto e abbiamo portato l'attenzione sulla modalità, quello che evidentemente non è stato fatto in passato, prima del 6 agosto, quindi quando è arrivata la delibera, la variazione di assestamento di bilancio, questo percorso, questo passaggio non è stato fatto, è un po' da questo che si è preso spunto. Quindi in futuro, io credo che la riunione di maggioranza che si è fatta ieri e che si riproporrà l'11 di settembre sia necessaria per affrontare le scelte importanti dei prossimi 5 anni. Una maggioranza che si rispetti si confronta sui temi, sulle questioni, sulle variazioni di bilancio, sulle leggi da rifinanziare, sulle scelte da fare. Non è stato fatto in questi primi mesi, io credo che lo spunto del 6 agosto sia servito per comprendere questo. Sotto accusa c'erano appunto tre articoli, inseriti da qua ieri nella legge di assestamento, oggi in consiglio, per la piscina di Lecce dei Marzi, il cemitero di Secinare e un museo di Avezzano. A fare da pacere è toccato sempre a Marsiglio, che ha cercato di dimostrare gli angoli, ci sarà un'ennesima riunione di maggioranza il prossimo 11 settembre. Delle leggi finanziate, come la regione parla per leggi, e dei contributi a tre comuni, scelti evidentemente dall'assessore competente o per un fatto che lui sa e ovviamente noi non sappiamo. Questo è un altro tema, noi abbiamo posto il tema sul metodo, come vi ho già spiegato. Cioè il metodo è le norme di bilancio, le questioni importanti si condividono perché magari ogni partito può avere una sensibilità rispetto al finanziamento di una norma piuttosto che di un'altra. Quindi non è una questione di contropartite, è una questione di come si amministra un governo regionale. Intanto però l'opposizione, il PD in particolare e il Patto dell'Abruzzo, arrivano alla carica con l'emendamento sulla legge Mancia ripresentato. Noi riteniamo che in questo particolare momento, con una sanità al collasso, con un aumento del prezzo del biglietto del trasporto pubblico locale, con gli agricoltori in ginocchio, con il sistema economico regionale che sta soffrendo enormemente, non si possa continuare né nel metodo né nel merito di elargire risorse degli abruzzesi. La legge Mancia fa questo, 2382 associazioni beneficiarie senza alcun criterio, non va bene nel metodo, non va bene nel merito.